L'architetto Barlanda ha lanciato un appello, lasciamo nuovi segni tangibili di quello che è accaduto 70 anni fa. Sì, ha ragione, le nostre vallate sono piene di monumenti, di cippi che ricordano i caduti partigiani, il nostro territorio è ricco di musei che ricordano quelle gesta e quella stagione e noi abbiamo il dovere, tutto questo, di utilizzarlo bene per trasmettere sempre di più alle generazioni che si succedono memoria di quel che è accaduto, sia per rendere onore a chi con il proprio sacrificio, spesso della vita, ha contribuito alla libertà del nostro paese. E sia perché ognuno di noi abbia consapevolezza del cammino che ha compiuto il paese.